Perché in questi giorni si parla solo esclusivamente di pensioni, i cosiddetti diritti acquisiti, va bene, però il fatto che si parli poco di giovani e tanto di diritti acquisiti ci ha fatto venire la voglia di allargare un pochino il discorso. Stiamo scadendo verso la pubblicità, un minuto però a grillo, con un grafico perché poi dopo la pubblicità ne vedremo un altro che è significativo, ma quello sul prodotto interno all'ordore lo vediamo immediatamente perché dà il senso un po' anche di come è l'andamento del nostro paese rispetto agli altri. Agli altri, insomma noi sempre un po' fanalino di coda, grillo. Sì, questa è un po' una prospettiva diciamo di medio-lungo periodo, perché appunto è benissimo, non possiamo ragionare sempre del 0,7 piuttosto che dello 0,8%. Allora se prendiamo un orizzonte temporale di 20 anni dal 96 oggi, c'è da dire che nel 96 siamo, anzi nel 95 siamo stati per qualche mese addirittura la quarta potenza economica del mondo, riuscimmo a superare la Francia. In questi 20 anni le quattro linee danno l'evoluzione, fatto 100 il prodotto interno all'ordore nel 1996, di tutto il mondo, dei paesi più ricchi, quindi Europa più Stati Uniti, Giappone, Australia, dell'Italia e forse la cosa più interessante l'Unione Europea a 15, cioè i paesi più vecchi, quelli là che in qualche maniera condividono il declino con l'Italia. E i numeri sono assolutamente molto più drammatici dello 0,7%. L'Italia è assolutamente ferma da 20 anni, con un divario rispetto ai paesi più simili all'Italia, che è più o meno dell'1,5% all'anno.